lista calabro sindaco sestri al centro candidato sindaco giorgio calabro già consigliere comunale ha una storia politica se la mia storia politica è abbastanza diciamo va indietro negli anni no sono stato vice sindaco con il sindaco lavarello fatto l'assessore ai lavori pubblici ho fatto tante opere per il bene della città sono soddisfatto di quello che ho fatto gli ultimi cinque anni l'ho fatto come consigliere comunale ecco la sua è una candidatura che si contrappone a cosa ea chi beh non si contrappone a nessuno direi io lavoro per il bene di sestri ci collochiamo al centro dell'arco politico né a destra né a sinistra e lavoriamo per la città siamo civici puri che cosa ha nel suo programma che adesso ci può raccontare in maniera veloce ma ho tanti punti quello che mi preme dire sul sociale per esempio voglio istituire l'assessorato ai servizi sociali e alla solitudine che sostituisce l'assessorato ai servizi sociali per dare una mano alle persone sole persone anziane che si trovano in difficoltà anche a compilare dei moduli quindi qual è l'elettorato a cui si rivolge guarda noi ci rivolgiamo a tutti insomma ai giovani ai meno giovani agli anziani alla città di sesti siamo convinti che ci sosterranno con molta soddisfazione quanto pesa la sua candidatura nella risultato delle ultime elezioni dove non l'è stato dato un assessorato che aveva avuto in passato l'ultima volta la mia lista aveva preso il 5 per cento circa no noi contiamo questa volta di migliorare tantissimo insomma ecco le percentuali sicuramente saranno molto diverse ecco molto più alte a chi guarda in caso di ballottaggio intanto le dico secondo lei chi potrebbe andare al ballottaggio bene guarda il quadro politico è molto indeciso quindi è difficile fare delle previsioni per quanto riguarda noi e valuteremo diciamo il lunedì pomeriggio il martedì per vedere con chi possiamo andare a fare la coalizione per il ballottaggio insomma ecco in questo momento non abbiamo pregiudizi contro nessuno lei ci tiene a sottolineare che la sua è una lista civica e che si colloca al centro c'è qualche forza politica un movimento che la sta appoggiando no assolutamente anzi questo lo voglio precisare perché in passato ci sono state anche delle voci diverse noi siamo una lista civica è l'unica lista che sostiene la mia candidatura non ci sono altri movimenti e siamo soddisfatti di quello che abbiamo composto partecipativa però si è espressa in con una certa simpatia nei suoi riguardi sì ma noi abbiamo diciamo tutto sommato abbiamo delle simpatie sia sia a destra che a sinistra da questo punto di vista non ci possiamo lamentare però noi facciamo il nostro percorso ovviamente ecco abbiamo fatto il nostro programma siamo convinti di quello del nostro programma e lavoriamo per il bene di Sestri ci sono delle urgenze secondo lei che Sestri in questo momento richiama ma guardi praticamente Sestri ha avuto in questi ultimi cinque anni un po di degrado generale sia sul verde che sul diciamo sul decoro quindi bisogna agire su questo non sulle grandi opere le grandi opere in qualche modo sono state fatte e quindi va bene così però sulle piccole cose sulla piccola manutenzione bisogna agire sul decoro e sul verde anche il verde ha avuto in questi anni proprio un abbassamento quindi dobbiamo migliorarci in questo su questo campo ecco lei ha precisato prima che guarda molto al sociale alle necessità delle persone anziane e mi viene da dire anche ai giovani veramente quando si parla di sociale ma ha un'idea della situazione sanitaria ancorché riferita proprio a Sestri Levante è stata oggetto da più parti guardi innanzitutto dobbiamo sull'aspetto sanitario dobbiamo vigilare perché la regione deve deve istituire queste case di comunità questi ospedali di comunità noi dobbiamo vigilare in modo tale che queste strutture vadano a buon fine e risolvono molti problemi per l'utenza per i cittadini sotto profilo sanitario in questo momento la gente per per avere una visita specialistica aspetta dei mesi non è possibile una regione come la nostra che è una regione evoluta tutto sommato insomma una regione anche ricca se vogliamo non può avere queste cose ecco quindi dobbiamo senz'altro migliorare da questo punto di vista e come sindaco io vigilerò affinché la regione in modo anche collaborativo perché io voglio istituire questo rapporto come dire positivo con la regione per per risolvere insieme tanti problemi sette competitori alla carica di sindaco che caratteristica principale deve avere il sindaco di Sestri Levante in una battuta uguale deve essere molto una battuta è molto difficile perché deve essere molto come dire deve sapere ascoltare sapere delle decisioni essere una persona come dire affiancabile un po da tutti ecco non può essere un presuntuoso ecco e neanche solo evidentemente e neanche solo deve avvenire anche una buona squadra per poter fare il bene di Sestri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti